Allora stavamo parlando, Giovanni, stavamo parlando del bullismo, perché noi qua stamattina ci troviamo qua per cercare di sconfiggere il bullismo. Allora, quello che diceva Gabriel, il bullismo noi non lo sconfiggiamo con il bullismo, perché? Perché poi diventiamo più di loro. Bravissimo, dobbiamo cercare queste persone. Se non diamo con il bullismo, siamo più scemi. Bravissimo, non siamo più scemi, perché scemi è una roba, non è una roba. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.